5, 6, 7, doppio, 1, 2, 1, 2, espiro, lento, inspiro, lento, 2, 1, testa abbandonata sulle mani, non appesantire il collo, 8, 7, 6, 5, collo leggero, 4, 3, 2, 1, stop, gomito ginocchio, 5, 6, 7, vado, espiro, allungo bene, torno sempre passando dal centro, 4, 8, 7, 6, ginocchia più vicine, non allargarle, linea con la caviglia, 3, 2, coraggio, 1, stop. Stendi le ginocchia, vieni su, vai, 1, 2, non chiudere i gomiti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, resto super, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allungo bene la schiena, scarico il peso sui talloni, sposto un po' le braccia verso destra, la testa rimane in centro fra le braccia, passo dal centro e porto le mani a sinistra. ritorno in centro, piano piano mi sollevo con le mani per andarmi a sedere, spalle giù, sacco vuoto, corpo leggero, rotazione della testa, morbido, cambio, e stop, ok, allarga le ginocchia un po', piedi in linea, punta le dita dei piedi, vai, squadra, tallone giù, schiaccio indietro, testa fra le braccia, piego le ginocchia, vado, stacco i talloni, risalgo, schiaccio in squadra, ancora, vado a piegare, gomiti distesi, schiaccio indietro, tallone giù, le ultime tre volte, 1, e giù, giù il tallone, 2, e tiro su, giù il tallone, 3, ultimissima, e schiaccio.